Attraverso un'associazione operante a Paternòe in Romania, reclutava mano d'opera rumena da impiegare nelle campagne paternesi senza alcuna garanzia di tutela, costringendo i lavoratori a subire condizioni vessatorie con violenze, minacce e richieste estorsive. Le sue vittime venivano inoltre collocate in alloggi di fortuna, privi delle condizioni minime di abitabilità come acqua corrente, energia elettrica, servizi igienici e riscaldamento. Per questo motivo con l'accusa di capolarato, Rosario Di Perna, 61 anni, e il figlio Calogero erano stati colpiti nel 2015 da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Tribunale di Catania nell'ambito dell'operazione slave. Per il 61enne, tra l'altro già condannato in passato per truffa all'Inps, furto continuato e usura, è scattato adesso anche il sequestro del patrimonio a lui riconducibile, stimato in circa 10 milioni di euro, essendo stata evidenziata una sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto. In particolare, la DIA di Catania ha sequestrato diversi rapporti bancari in corso di quantificazione, 8 automezzi, due aziende, la di Fruita SRL di Paternò, operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, e la ditta individuale di Perna Calogero, operante nel settore delle colture agrumicole, oltre a 20 fabbricati e 48 appezzamenti di terreno nei comuni di Paternò, Belpasso, Biancavilla, Ramacca, Floresta e Patti, per un totale di oltre 50 ettari. È un sistema che andava avanti da diversi anni, abbiamo ricostruito i rapporti che vanno dal 1990 ai nostri giorni, è un lavoro molto delicato, sono stati passati a setaccio numerosi registri contabili, diverse società che si occupavano ovviamente del settore agricolo e anche i contributi che la GEA aveva fornito nel tempo per la coltivazione delle terre e soprattutto quelli previsti nel settore agricolo. È un lavoro scrupoloso come ho detto e consentitemi di farlo per una volta, non è mia abitudine. Volevo ringraziare tutti gli uomini della Direzione Investigativa Antimafia che ogni giorno fanno della propria attività una missione e che ogni giorno, centimetro per centimetro, stanno professando un solo Vangelo, quello della legalità contro ogni crimine e soprattutto contro Cosa Nostra. Ogni giorno di soggiorno in queste baraccopoli costava al rumeno 5 euro, già da un esiguo stipendio di appena 25 euro giornalieri e a questa somma veniva a sua volta decurtata tutte quelle somme che erano necessarie per poter vivere, quindi anche per i beni di prima necessità, dall'acqua al pane alla pasta e quindi ci troviamo di fronte a degli stipendi veramente ridottissimi. E tra l'altro bisogna segnalare che questi imprenditori, che erano anche caporali, privi di scrupoli, evadevano tutto quello che erano i contributi IMPs e i contributi necessari che vengono versati per un lavoratore messo in regola. Non tutti gli imprenditori sfruttano i migranti, non tutti gli imprenditori non rispettano le regole e questa operazione, a mio avviso, deve essere salutata dalla imprenditoria sana e la quale deve a sua volta denunciare. Denunciare è l'unica strada. Il nostro portone, ho detto, è sempre il nostro palazzo, è un palazzo di cristallo dove le attività che si svolgono sono delle attività trasparenti e ogni cittadino può vedere cosa realmente la direzione investigativa fa quando è di fronte a una denuncia e abbiamo un obbligo, quello di dare delle risposte alla cittadinanza e alla popolazione.